Il cieco. È un'epidemia. La cecità? No. No. Tuona l'urlo di Borges. La mia cecità. È lo sprofondamento nei colori, scandagliamento negli abissi. È innalzarsi per tornare alle origini, riflessione profonda della creazione. Annerimento, tenebra oscura. Mia cecità? No. Borges dice, Lumiera mai spenta, pulsazioni per la vita, varietà nelle vedute, la sua cecità, Borges, e verdeggiamento nel blu. Verde azzurro nelle varietà dei verdi, e il rosso è un mare di dare, navigazione nell'anima e vele dell'orizzonte. Borges è partito, se n'è andato, ma è rimasto il suo credito, il credito del buio. Borges percepisse stesso e se n'è andato, perché il cieco è il più capace a capire se stesso.